benvenuti a piazza del gesù piazza del gesù nuovo per la precisione e al civico 33 c'è la full heads che è un'etichetta discografica io sono luciano chirico e sono il fondatore di questa etichetta discografica con la full heads già dal termine si può immaginare insomma una mission c'è il desiderio e l'obiettivo di diffondere l'arte la creatività di napoli in tutto il mondo e infatti ha un termine in inglese perché full heads significa teste piene volutamente ma il tema principale rimane comunque l'opera di ingegno di artisti nati in questa città l'esperienza della full heads che ha compiuto proprio quest'anno dieci anni viaggia tra l'arte dei foia come il sound della maschera o di tommaso primo di daniele sepe capitano capitone tanti altri artisti che oggi costituiscono il catalogo di questa giovane etichetta e il desiderio è duplice quindi sia di diffondere la nostra arte in tutto il mondo sia di permettere ai turisti del mondo che vengono a trovarci nella nostra città di scoprire le radici e i frutti dal punto di vista musicale della nostra terra la full heads è costituita da una squadra di ragazzi giovani sono tutti under 35 escluso me che dal taglio di capelli capirete non essere più di primo pelo rimanendo in tema siamo in quattro ogni ragazzo ha più di un reparto in gestione ci occupiamo di diritti ci occupiamo di discografia fisica di discografia digitale di merchandising comunicazione di concerti e tutto quello che è il mondo della musica ci appartiene sia per passione ma l'obiettivo principale è quello di aver fatto del nostro amore anche il nostro lavoro